Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Sulla 1 panoramica si ricorda che fino al 28 febbraio rimarrà chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. In Fipili invece per lavori al viadotto Stagno sul ramo di Livorno sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 76 e 400. Restringimenti di carreggiata per lavori di manutenzione sui viadotti anche sul raccordo Siana Firenze tra Firenze Imprunete e San Casciano dal chilometro 49 e 700 al chilometro 50 e 900 in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!